Lascia sgomenti quello che è successo oggi ad Aosta. Una madre, per giunta un'infermiera, prende in ospedale i farmaci letali con i quali uccide con una iniezione i suoi due bambini, 9-7 anni, poi si toglie la vita. Lascia due lettere per gridare il suo dolore, la sua difficoltà, la sua impossibilità ad affrontare il peso della vita. È un gesto folle compiuto da una persona normale, non è un gioco di parole, ma significa che questa signora non è affetta da una malattia mentale e tanto meno dalla depressione, anzi dimostra attività, anzi di essere molto legata al lavoro, però si sente isolata, non capita dal marito, forse non aiutata sufficientemente in quella che è la vita quotidiana della famiglia e allora elabora un'idea che si fissa nella sua testa e che è quella di vendicarsi e oggi questo termine vendetta si collega facilmente con l'uccidere e l'uccidersi, come se la morte fosse una modalità addirittura per affermarsi, per determinare la propria volontà. E così due bambini drammaticamente, due figlioli muoiono, certo li uccide tecnicamente attraverso delle iniezioni e un'infermiera fa molte iniezioni, ma certo la freddezza che usa è certamente legata anche alla premeditazione, ha compiuto quel gesto molte volte nella mente e così gli ha tolto l'emotività, ma qui bisogna pensare al teatro in cui tutto questo si è svolto alla famiglia e dobbiamo essere più attenti perché oggi la famiglia è una istituzione complessa, bisogna ascoltare, cercare di andare nel profondo, non dei legami superficiali perché altrimenti si finisce persino per ributtare sui figlioli le frustrazioni di una coppia.